Per Guida Viaggi Web TV, Damiano Sabatino, amministratore delegato di Travelport in Italia, ha gli Award, il Travelport Night Award in diretta da Rimini, premiati circa 15 agenti di viaggi si sono distinti per un approccio all'innovazione particolare che voi avete deciso di premiare, perché? Perché noi pensiamo che l'innovazione tecnologica, l'innovazione dei processi sia la chiave per il successo del trade e per chiunque in generale si occupi di viaggio e turismo, quindi noi abbiamo premiato agenti di viaggio ma anche partner, quindi non soltanto agenti di viaggio ma anche dei player nell'ambito dell'industria che abbiano portato di noi contenuti, compagnie aeree, tour operator, fornitori di servizi cosiddetti ancillari che hanno intrapreso da parte loro l'investimento per entrare su GDS, quindi un sistema di distribuzione organizzata e capillare integrandosi nel processo, nel sales process e nel workflow dell'agenzia di viaggio. C'è una certa vivacità in questo senso, vediamo sempre di più i treni a bordo dei GDS, vediamo addirittura le low cost, ci conferma? Certamente, infatti uno degli award è proprio per NTV che è uno degli elementi di novità nel mercato di viaggio in Italia, NTV è distribuita in esclusiva da Travelport, le due organizzazioni hanno fatto degli investimenti significativi per che questo fosse possibile per ottenere la comparazione fra i poteri e i poteri e i poteri e i poteri. Grazie a tutti! Grazie a tutti!